Ciao a tutti, oggi sono qua per farvi una nuova recensione scelta da voi. Per chi non conoscesse questo format del mio canale, in pratica io sul nostro gruppo Facebook Chibis the Wainy, che trovate sempre linkato sotto tutti i miei video, vi propongo alcuni titoli fra cui scegliere la recensione che volete vedere poi sul canale. Il titolo che avete scelto questa volta è stato Le ragazze di Emma Klein, un libro che è edito da Einaudi al prezzo di 18€. La protagonista della storia è Evie, una ragazza di 14 anni che vive una situazione familiare, un po' delicata. Infatti i suoi genitori sono separati, non vede mai il padre, la madre è troppo occupata a rifarsi una nuova vita, scopre che le sue amicizie non sono più così interessanti come lo erano una volta, quindi si ritrova da sola a guardarsi attorno. E un giorno, per il suo paese, incontra una ragazza che da subito la colpisce, ovvero Susanne. Susanne è una ragazza dall'aspetto molto trascurato, sembra quasi un gatto selvatico, e colpisce proprio per questo Evie, perché non ha paura di mostrarsi per quella che è ed è libera. Avvicinandosi a Susanne, Evie scoprirà l'esistenza del Ranch, una sorta di setta di gruppo di ragazze che ruotano attorno ad un unico uomo. Questo libro fa riferimento degli eventi realmente accaduti nel 69, ovvero gli omicidi da parte della setta di Charles Manson. Tuttavia la storia non è incentrata sulla setta, su questo gruppo di ragazze, è focalizzato principalmente sull'essere un'adolescente femmina. Il tema principale del libro è infatti l'adolescenza, come Evie vive questa condizione in cui ha ancora dei desideri, degli atteggiamenti infantili, ma allo stesso tempo vuole crescere, crescere subito. Come vede, come si rapporta agli adulti, visto che vive una situazione familiare molto difficile, non ha un vero e proprio rapporto con i suoi genitori, in particolare con la madre. In particolare il rapporto fra Evie e la madre, che è un rapporto molto complicato in cui è quasi impossibile comunicare, l'ho trovato molto interessante, però allo stesso tempo poco approfondito. Si poteva sviluppare meglio questa parte, proprio per sottolineare anche le difficoltà di comunicazione in quel tipo di famiglia alla fine degli anni 60. E più in generale penso che manchi un vero e proprio confronto fra l'adolescente e l'adulto, fra la ragazza e la donna. Si parla tanto di adolescenza, di ragazze, ma non c'è un vero e proprio confronto con poi l'età adulta. È una cosa che mi è un po' mancata in questo libro. Una componente importante di questo libro, inoltre, è la sessualità. Dal momento che la protagonista è un adolescente, incomincia ad esplorare questo campo, il proprio corpo, il piacere, appunto l'attrazione verso gli altri, l'ho trovata una cosa molto interessante perché raramente ho trovato in un libro, in un romanzo, questo aspetto sviluppato dal punto di vista femminile. Il personaggio a mio parere più interessante in questa storia è Suzanne, perché è un personaggio che rimane sempre molto misterioso. La sua mente è molto complicata e non riusciamo mai a comprenderla fino in fondo, perché agisca in un certo modo, perché accetti di vivere in una condizione di assoluto degrado. Il ranch in cui vive assieme ad altre ragazze è veramente sporco, disordinato, non ha cose proprie, addirittura i figli delle donne non possono stare sempre con la loro madre, ma devono girare di ragazza in ragazza proprio per eliminare il concetto di mio, di proprietà. La situazione che viene descritta al ranch è veramente devastante e faccio fatica a concepire una persona in grado di accettare delle condizioni di questo genere. Oltre al degrado, alla sporcizia, anche l'essere continuamente sotto droghe, essere violentata a livello fisico e psicologico, è una cosa veramente tremenda. Evi si avvicina pian piano a questo mondo del ranch, non è obbligata a far parte del gruppo, ma lei che sceglie di seguire Suzanne, perché non ha legami familiari, non ha più amicizie, un po' si annoia ed è soprattutto invogliata a provare qualcosa di nuovo. Nel ranch si sente parte di qualche cosa, si sente utile a qualche cosa, si sente importante ed è per questo che sorvola sul fatto che sia sporco, degradato e quant'altro. Tuttavia a un certo punto ho iniziato a sviluppare un senso di rabbia, perché come può una persona, soprattutto una ragazza di 14 anni, accettare tutto questo? Come puoi non renderti conto che a un certo punto si arriva veramente al limite, che è troppo? Perché non scappi via da quella situazione? Perché continui a tornare? Ha un legame veramente ossessivo verso Suzanne, è ossessionata da questa ragazza che ha qualche anno in più di lei, quindi la vede veramente con occhi diversi e soprattutto il suo modo di essere, così naturale, così libera di potersi esprimere. Ha una certa invidia nei suoi confronti, ma allo stesso tempo desiderio. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente è che la storia ci viene narrata da una Evie adulta, che ha già vissuto l'adolescenza e rivive quindi i suoi ricordi del passato, quel momento, diciamo, di iniziazione. L'ho trovato un punto di vista interessante perché ci sono delle considerazioni fatte a posteriori e effettivamente quando si cresce, si diventa grandi e si ricordano i momenti del passato, a volte è difficile capire perché si sono fatte certe cose, però allo stesso tempo ci si comprende anche meglio. Il percorso che ha fatto Evie l'ha portata comunque a crescere, a capire molte più cose su se stessa. In un certo senso è un'esperienza che l'ha formata. Tuttavia noi non sappiamo praticamente nulla dell'EV adulta ed è una cosa che a me è mancata tantissimo in questo libro. Si ha qualche accenno di chi sia adesso, ma non si sa che lavoro fa, se ha una famiglia, che studia intrapreso, se è felice. È una cosa che un po' mi è mancata perché abbiamo vissuto tutta la sua adolescenza, abbiamo scoperto un momento particolare della sua vita, però non sappiamo come ha influito sulla sua vita da adulta. In generale è un libro che mi è piaciuto, soprattutto all'inizio mi teneva veramente incollata alle pagine perché ero molto curiosa di sapere che cosa sarebbe successo, mentre verso la fine questo mio interesse è un po' calato perché la storia l'ho trovata un po' piatta e leggermente noiosa. Questa era quindi la mia opinione sulle ragazze di Emma Klein. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se lo avete già letto, se avete intenzione di leggerlo, se vi incuriosisce o meno. La cosa che mi ha spinto principalmente a leggere questo romanzo è che appunto è ispirato da una vicenda realmente accaduta, veramente agghiacciante. Nel caso voleste partecipare al prossimo sondaggio per la recensione scelta da voi, trovate il link qua sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!